Di Alice de McGregor abbiamo per così dire perso le tracce nel 2008 quando lasciò la Publisys qui in Italia per andare oltre Alpe a Parigi in TBWA. In questi anni ovviamente è rimasto in contatto col mercato italiano, abbiamo spesso pubblicato notizie che lo riguardavano ma oggi c'è una grande novità perché da pochissimi giorni, più o meno una settimana ha assunto un nuovo importante incarico in una nuova struttura che nasce nell'ambito omnico e più particolare TBWA che approccia la comunicazione in modo assolutamente innovativo, molto più integrato, forse anche più media neutral, insomma in linea con quella che è la tendenza attuale dove la pubblicità classica è solo un di cui di un mondo che è la comunicazione che è formato da più voci e da più discipline. Comunque di questo nuovo prestigioso incarico perché McGregor Asti è Chief Creative Officer Worldwide ci parla appunto il diretto interessato. Allora che cos'è Bing? Essere? Bing nasce perché c'è bisogno oggi di una integrazione maggiore, cioè Bing è veramente l'agenzia integrata per un mondo integrato dove l'approccio non è più quello di un'agenzia classica che fa il lavoro che un cliente non sa fare, ovvero la pubblicità, ma si mette nei panni di un consulente che all'interno di se stesso ha un sacco di professionalità, dall'architettura, al web, al design, al packaging, al consumer marketing, alla pubblicità, per poter affrontare dei problemi del cliente direttamente con una risposta puntuale che non richiede uno spot miliardario con testimonial altrettanto miliardari. Se non sbaglio Bing è stata lanciata in Francia due anni fa e sei mesi fa Tom Carroll che è il CEO di TWA ha deciso invece di estenderlo a tutto il mondo, quindi c'è una strategia immagine di espansione in Europa e non, puoi dirci qualcosa di più? Esatto, ovviamente lui ha visto in Bing un esempio, un modello di business molto interessante soprattutto per i paesi emergenti dove saltiamo direttamente dal niente o dal ben poco a una struttura molto, diciamo così, evoluta come Bing, dove l'opportunità c'è soprattutto nei Next Eleven in Asia, ma nei Bricks classici di cui ormai parliamo da anni, avvenire anche nel vecchio continente con opportunità quando nasceranno di aprire in Italia, Germania, Spagna, altrove. Puoi dirci di quante persone è composta Bing, quali sono i clienti per i quali già lavora? Allora adesso ci sono 260 persone in Bing a Parigi con un satellite a Lione, che non ho mai lavorato con un satellite così in provincia ma non vedo l'ora, che sono anche molto forti nel design tra l'altro. Abbiamo clienti che vanno dalle case farmaceutiche classiche come Pfizer, case farmaceutiche francesi, Pierre Fabre, Boiron per esempio, la casa farmaceutica che fa i prodotti omeopatici, abbiamo prodotti di lusso, c'è una nuova marca di orologi che si chiama Tecnomarine, abbiamo Pernod Ricard con Absolute, Martel e altri prodotti di genere alcolico, abbiamo anche un po' di Nissan che mi trascino dietro dalla vecchia struttura, Procter & Gamble sta entrando poco a poco a intendersi con noi, abbiamo Brown per esempio per tutta Europa, abbiamo anche cominciato come dicevo con Procter sui detersivi e altre cose del genere, dunque abbiamo un po' di tutto. Ma come funziona il rapporto poi con le altre agenzie del gruppo, appunto TBWA, BBDO o DDB? No, perché noi offriamo delle cose che loro non sanno fare, noi le facciamo meglio, perché siamo strutturati per farlo meglio, per esempio su Nissan che è il principale cliente di TBWA, stiamo lavorando per il Salone dell'Auto di Ginevra su cose che loro non sanno fare, tipo lo stand, noi abbiamo la gente capace di fare questo. Quindi da quello che ho capito, sono imminenti aperture sia in Europa che anche Londra, mi pare di capire, che negli Stati Uniti, perché New York sarà un prossimo appuntamento, ma anche nel Far East come Bangkok, oppure nel Middle East come Qatar o nell'Europa orientale come a Mosca. Stranamente sono molto forti in Medio Oriente perché abbiamo un cliente in Qatar che è molto importante, che è il Qatar Foundation che ci dà una piattaforma in una parte del mondo abbastanza scoperta dalle grandi agenzie. Ecco, dicevamo 2008 Publisys, poi Parigi TBWA, dove sei poi diventato direttore creativo EMEA di G1, la struttura dedicata alle auto, quindi un percorso molto importante che forse in Italia non so se avresti potuto fare, questa considerazione mi serve per farti l'ultima domanda, ma torneresti a lavorare in Italia, come la vedi da fuori questa nostra povera nazione? Domanda cattiva, se tornerai a lavorare in Italia in questo momento no, credo che ci siano grossi talenti italiani, credo che ci siano anche dei clienti che hanno voglia di fare delle cose originali, creative e un po' nuove, ma credo che l'economia italiana, ma anche non solo l'economia, ma anche la mentalità, sento una specie di depressione nazionale che non aiuta, non aiuta molto alla creatività, non aiuta molto all'originalità e non dà ai clienti la forza, l'ambizione e se vogliamo anche un tocco di irresponsabilità per fare delle cose eccellenti. Mentre questo a Parigi, forse in virtù di una situazione economica leggermente migliore, non avviene oppure perché è proprio un dato culturale, cioè è nel DNA dell'industria francese, essere più coraggiosi, più propositivi, più anche forse rispettosi della creatività e dell'innovazione? Sono due parti, stare in Francia significa lavorare con i francesi, i parigini, ancora peggio se vogliamo, che hanno un'opinione di se stessi molto importante, diciamo così, dunque loro vogliono che la loro pubblicità faccia onore al loro essere francese, ma è anche vero che in Francia ci sono un sacco di sedi di multinazionali di tutto il mondo, basati a Parigi, che vedono la pubblicità come rampa di lancio per i loro prodotti in Europa e poi altrove. Dunque, sia i francesi che lavorano in queste società, sia gli expats, diciamo così, non hanno paura di investire nell'idea e nella produzione, una cosa che ahimè qui in Italia non succede più. Fra l'altro in Francia c'è un nutrito gruppo di italiani espatriati, Andrea Stillacci, più di quello che mi viene in mente, forse è quello che fa parlare più di sé in questo periodo. Vi ritrovate, parlate dell'Italia, com'è? Sì, sì, ci riferisco, siamo puntualmente intorno a un tavolo in un ristorante sardo a Saint Germain, sembra una specie di carboneria quasi, di ex pubblicitari italiani che più o meno ci vediamo ogni tre mesi, quattro mesi, ce la raccontiamo un po'. Vediamo che questo numero diventa sempre più grande perché ci sono sempre di più creativi italiani che sbarcano a Parigi. Tu mi dicevi che hai molte anche richieste di persone, di creativi che vorrebbero venire a Parigi. Purtroppo sì, dico purtroppo perché significa che a casa loro non c'è possibilità o non hanno lavoro o sono stati licenziati o non trovano la possibilità di esprimersi in modo adeguato. Ultima domanda, quale messaggio ti senti di dare ai creativi che decidono invece di rimanere in Italia o sono costretti a farlo per poter svolgere meglio la loro professione? Credo che i creativi italiani debbano continuare ad essere originali e soprattutto combattere. L'importante è avere un'idea e difenderla fino alla morte o quasi. in una crisi come questa l'idea che qualcun altro ha ragione, io ho torto, diciamo così viene spontaneo perché uno dice se insisto, sembro quello che vuole a tutti i costi, scusate in termini a rompere i coglioni, ma se un'idea è buona e la tua idea difendila. Bene, con questo consiglio che Alessi McGregor Asti rivolge ai creativi italiani si conclude il nostro incontro per ADV Express TV Salvatore Sagone.